È un no secco quello da parte della provincia di Arezzo al progetto presentato dalla PowerCrop SRL per la riconversione dell'area ex Saddam a Castiglion Fiorentino. È infatti terminato il lavoro della conferenza dei servizi e dopo il pronunciamento negativo ora è la giunta provinciale ad annunciare di aver deliberato il preavviso di rigetto per la non compatibilità ambientale del progetto stesso, per le criticità evidenziate e le motivazioni espresse dalla conferenza. All'azienda proponente sarà quindi notificato questo preavviso, in base al quale avrà alcuni giorni di tempo per le sue contradduzioni. Il progetto denominato Polo Energie Rinnovabili di Castiglion Fiorentino subisce dunque uno stop e la motivazione è prettamente urbanistica. Soddisfazione da parte del Comitato Tutela Valdichiana per la vittoria di questa prima battaglia ci dicono ma la guerra è ancora lunga. È praticamente certa l'opposizione da parte dell'azienda a questo parere intanto con un processo denominato di autotutela al termine del quale l'ente non potrà che confermare la sua posizione. I passaggi successivi sono Tar e Consiglio di Stato. L'altro fronte, quello occupazionale, sarebbe invece quasi risolto e circa 25 ex dipendenti dello zuccherificio, su interessamento della regione toscana, potrebbero essere presto riassorbiti da una grossa realtà della Valtiberina.